Dunque, l'ultima cosa che abbiamo visto è questo breve programmino che è la prima versione del mio programma di fotometria differenziale. Quindi avevo visto un po' come è fatto, quindi lanciamo ipython-pylab per usarlo. Bene, quindi io questo qui lo lancio semplicemente così come sta. Non mi ricordo, scusate, fatemi vedere se me lo sono scritto. Se me lo sono scritto, sì, ecco, me lo sono scritto. Bene, lo lancio da ipython con il solito comando run e specificandogli i file, da dove deve prendere i file, come più o meno come gli altri che vi ho fatto vedere. Bene, non c'è, come mai? Me lo sono perso. Forza di fare correzioni, ho perso il file originale. Vabbè, funziona anche quell'altro. Dunque, perché, come vi farò vedere, ne ho fatto varie versioni che più o meno funzionano tutte nello stesso modo. Allora, qui vedete, ho fatto i vari, i vari, si vedono i vari step di elaborazione. Come vedete, alla fine di ogni ciclo ho fatto scrivere questa cosa. Di solito è comodo per i programmi di questo tipo, perché così uno vede che stanno andando avanti. Quindi, che cosa fa questo programma? Questo programma, per ogni cerchio che ho definito in quel file, diciamo così, identificato in maniera interattiva, calcola il flusso per... Quindi calcola il flusso per ognuno degli oggetti. Il primo degli oggetti è quello sul quale ci dovrebbe essere il pianeta extrasolare da rivelare e contemporaneamente aggiorna la posizione intorno alla quale io faccio la misura del flusso utilizzando come posizione il baricentro dell'immagine. Andiamo un attimo avanti... Ok, no, non vi volevo far vedere su... E quindi, a questo punto, per come è fatto il programma, io dovrei avere la lista di ifflux con la lista dei flussi calcolati. Quindi, se io faccio pltplot diffflux, ecco, io ottengo questa curva qua. Già a una prima occhiata si vede che non ha funzionato nulla. Allora, io mi aspettavo un andamento più o meno costante, un abbassamento del 2% e mi par di ricordare che l'osservazione non copriva tutta l'occultazione, per cui finisce un po' prima della fine dell'occultazione, per cui non si vede il ritorno al flusso originale, ma comunque qui c'è una variazione che è del 60%, non è assolutamente compatibile col fenomeno, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va. Bene, ho, tanto per darvi un'idea di come invece funzionano queste cose, volevo vedere se riesco, in maniera non troppo complicata, a... Dunque... No, forse non ci riesco in maniera non troppo complicata. No, volevo spiegarvi un po' queste cose con cui io prendo me. Proviamo. Allora, dunque, io dovrei avere una variabile c data, forse ce l'ho. Ok, sì. Queste qui sono i centri delle... i centri... dei cerchi che io prendo in esame, intorno agli oggetti. Adesso, se io apro un'immagine con... faccio img uguale... o no, devo prima importare... importare... quindi from astropy.io import fits e poi prendo l'immagine img uguale fits.getdata da work slash img001.cal ah no, non devo usare fits.getdata perché ce l'ho in calibrate, quindi è np.load questo è il modo per leggere le immagini calibrate work slash img meno 001.cal appice eccolo qua ok quindi ho l'immagine e volevo farvi vedere il funzionamento di questa misura del flusso che ho usato nella mia funzione tanto per darvi un'idea di come funzionano queste... quindi io devo fare un import di queste funzioni da photutils ok poi mi genero l'apertura e me la genero me la genero intorno all'oggetto principale che è questo va bene? quindi io scrivo così tanto per che si fa prima chiusa parentesi virgola vuole il raggio che io mi ricordo avevo messo a 50 quindi l'ho chiamato percio scusate mi sono dimenticato la ma tanto non importa perché lo uso a mano quindi mi faccio la fotometria sull'immagine allora come avete visto io ho aperto presso i dati dell'immagine numero 1 dentro img definito l'apertura circolare sulla quale fare fotometria e poi la chiamo chiamo la funzione apercio il fotometri e vado a vedere la ragione è che volevo farvi vedere com'è fatto questo FLX allora questo FLX che mi torna dal dalla funzione è una tabella Qtable vedete che ha un X center uno Y center e una somma sull'apertura e sono esattamente i tre numeri che vi avevo detto sono il centro il centroide le coordinate del centroide e il valore misurato cioè la somma dei pixel fatta in maniera opportuna ovviamente sull'apertura considerata quindi è per questo che io qui ho scritto ho notate che la funzione sarebbe è adatta a aperture fotometri invece che una sola aperture uno può avere un array di aperture e in quel caso calcola n valori di fotometria intorno a n diverse aperture per fare l'operazione in una avrei potuto invece che fare il loop sui singoli cerchi avrei potuto usare una una lista di cerchi e l'avrei fatto con una sola chiamata questo me ne sono accorto dopo e quindi ormai non ho modificato il programma ma si poteva fare anche così quindi questa strana sintassi qui piuttosto complicata perché è fatta così perché ogni elemento di questa di questa tabella flx di x center x center eh che cos'è flx l'escenti notate è una quantity vi ricordate quando abbiamo visto il package units e il package di astro pi abbiamo visto che esisteva la definizione di quantity quindi non è un numero floating point ma è una quantity che sono pixel poi vedete come tipo allora per avere il valore numerico di questa di questa di questo oggetto bisogna usare l'attributo value e infatti se io prendo punto value è un numero ah no è addirittura un array perché abbiamo visto che potevano essere potevano essere il risultato di più di più aperture e quindi io devo prendere il primo bene notate che è lo stesso se io scrivo così perché che una colonna è a sua volta indicizzabile come un array ma quando io prendo il value quello che mi ritorna se la colonna è una lista di oggetti mi torna una lista di valori floating point quindi posso mettere l'indice 0 alla colonna o alla lista di floating point che mi ritorna quando ci prendo l'attributo value quindi questi valori sono diciamo il valore in numero floating point delle posizioni allora per tornare alla nostra cosa ho detto questa roba qui non è non è quello che mi aspettavo c'è sicuramente qualche cosa di sbagliato e allora io naturalmente dobbiamo andare a capire come mai dov'è che abbiamo sbagliato dov'è che abbiamo sbagliato allora mi sono detto perché andiamo a vedere cosa succede alle singole stelle questo qui è il risultato della divisione del flusso della stella principale per la somma delle altre andiamo a vedere stella per stella come sono i flussi e quindi ho modificato il file fotometri quello che avete visto nella pagina precedente l'ho chiamato fotometri.1 aggiungendoci un paio di dettagli in particolare ho aggiunto questa lista per metterci flussi stella per stella bene quindi come vedete il codice è esattamente lo stesso soltanto che quando io mi calcolo i flussi di tutte le stelle per ciascuna immagine lo metto lo appendo anche alla lista dei flussi qui è questo star flux oltre che calcolare il valore del fotometrico della fotometria per la fotometria differenziale e metterlo come prima nella variabile di if flux ora siccome non ho girato la versione della pagina precedente ma ho già girato questo fotometri.1 non importa rigirarlo in i title quindi io già qui dentro questo star flux ho immagine per immagine il flusso misurato su ciascuna stella con la funzione aperce il fotometri bene quindi che cosa facciamo facciamo prendiamo questi flussi eccolo qua ho perché faccio questa chiamata e le chiamo star perché star flux aspetta un attimo star flux vediamo il primo elemento di questa di questa lista star flux di zero è fatto da 1 2 3 4 5 6 7 8 valori e sono i flussi per ciascuno degli 8 oggetti che io sto misurando siccome io voglio fare un plot dell'andamento nel tempo del flusso di ciascuna stella io l'ho trasposto per avere in star io ho star di zero elemento per elemento stars come l'ho chiamato con l'S stars scusate stars di zero stars di zero è una lista dell'andamento del flusso per la prima ho fatto la trasposta di quell'array dell'array ok quindi per vedere l'andamento stella per stella non faccio altro che fare un plot degli elementi quindi prendo il primo questo è il target principale eccolo qua che come vedete è già brutto di suo questo è il secondo facciamo così uno poi il terzo mettiamolo un altro insomma quattro ok già da qui si vede che cos'è successo è successo io mi aspetto che le variazioni di flusso nelle stelle non tanto nel primo oggetto che dovrebbe essere variabile perché c'è l'occultazione ma si è detto l'abbassamento dovrebbe essere del 2% ma le altre stelle che noi diamo per costanti come flusso hanno invece un abbassamento a partire dall'immagine dell'indice 300 bene a che cosa è dovuto questo abbassamento è abbastanza chiaro è dovuto al fatto che io ho fatto male il re-centering ovvero sia io non sto ricentrando le immagini le immagini piano piano mi vanno fuori dalla zona del misuro io mi s'abbassa e come vedete ma aumenta anche il rumore ovviamente perché a seconda di come si sposta perdo parte dei fotoni che dovrei misurare bene quindi chiaramente qui evidentemente è il mio sistema di centraggio che non c'entra come mai non c'entra il sistema di centraggio allora io ho modificato il ho modificato la procedura timelapse per vedere questi centri che io mi sono calcolato come si muovono bene infatti che cosa faccio qui come vedete è uguale a quella di prima ma qui questi due plot cosa fanno tracciano una croce in corrispondenza del punto in cui che io considero come il centro dell'immagine sulla quale fare fotometria quindi io guardo quelle croci come si muovono quindi facciamo usciamo da qui e lanciamo questo timelapse 1 che mi pare si lanci con sì eccolo qua quindi python3 timelapse 1 dot pi meno di work ecco qua l'immagine come prima l'ho fatta solo sulla prima tanto diciamo l'immagine si sposta tutta bene qui stiamo andando 28 29 io sto anche scrivendo il valore numerico della posizione di quella croce e come vedete è bello costante non si muove io mi aspettavo che e infatti qui possiamo andare un po' avanti ma si vedrà che piano piano quella croce si sposterà e finirà fuori dal centro dell'oggetto che io sto misurando quindi mi sono detto come io mi aspettavo questo è il centro prima e questo è dopo l'aggiornamento no l'ho calcolato nei due e non c'è nessun aggiornamento quindi io misuro sempre rispetto allo stesso punto non nel cielo ma nell'immagine e quindi sicuramente c'è la risposta e come vedete è già andata un pochino fuori centro e se continuiamo ad andare avanti io mi aspetto che cominci ad andarsene fuori davvero intorno al 300 perché abbiamo visto che calava cominciava a calare davvero intorno al 300 infatti siamo al 240 e già siamo abbastanza fuori bene ora io continuo a far andare avanti poi magari la fermiamo ma insomma questo prova che il mio algoritmo di centraggio non funziona e mi sono domandato perché mi sono domandato perché vabbè qui siamo già abbastanza fuori lo posso fermare lo fermiamo bene andiamo a vedere qua io dovrei avere leviamola lì stream ecco apercio il fotometri sono andato a riguardare apercio il fotometri l'uscita bene allora x center y center leggendo meglio sono le coordinate in termini di pixel della input apercio cioè quella che gli ho passato io e quindi non è lui che si ricalcola il centroide e mi dà le nuove coordinate e quindi avevo cioè la soluzione a quel problema lì è che leggere per bene il manuale perché io l'avevo l'avevo letto diciamo in maniera approssimativa e non avevo capito e mi è toccato fare un po' di codice per capire che cosa che cosa stava succedendo bene allora quindi in conclusione di questa di questa slide leggere il manuale che è sempre una cosa utile quando non funziona niente di quello che uno si aspetta allora io mi sono dovuto fare una funzione per calcolarmi il centroide naturalmente il techage fototill ce l'ha anzi ce n'ha più d'una facciamo un attimo un passo indietro facciamo un attimo un passo indietro perché è utile per e fatemi riprendere i python meno meno pilehub vediamo se ritrovo la lettura dell'immagine che avevo fatto prima ecco questa e poi lo show dell'immagine no bisogna che lo importi from show import show o questo per dire che il package fototill contiene un sacco di tools per fotometria in particolare ha dei programmi ormai diventati standard come DAOFOT o IRAF o i programmi di fotometria di IRAF quindi i primi tentativi li ho fatti con quelli che non funzionavano anche per trovare i centroidi esistono delle funzioni che si chiamano se io find the star che uno gli dà un'immagine e trova tutti gli oggetti che somigliano a una stella il problema è che per trovare le stelle fa dei fitting con delle PSF attese per una stella e cerca gli oggetti abbastanza puntiformi e qual è il problema nel caso delle nostre immagini se io rifaccio lo show di IMG e vado a guardarmi l'intorno della nostra stella qua non si vede che anche bene qui ma si vedrebbe meglio forse con un con un'immagine a curve di livello ma comunque questo oggetto qui è sostanzialmente una specie di ha una forma toroidale ovvero sia gran parte della luce sta qui intorno qui nel mezzo ci sono zone più buie perché? per due motivi il primo è che questo tipo di misure le misure di fotometria spesso si fanno sfocando l'immagine perché si sfoca l'immagine si sfoca l'immagine in modo che l'energia sia un po' più distribuita in modo che si possono fare integrazioni più lunghe nel CCD senza che il CCD saturi perché non c'ha dei pixel cioè se l'immagine è un picco molto acuto nella zona dove c'è la maggior quantità di luce il CCD arriva prima a saturazione se uno sparge la luce quindi sfoca l'immagine e sparge la luce in una superficie più ampia di pixel ottiene un'immagine con segnale rumore migliore quindi queste immagini si fanno sfocate quindi l'oggetto diciamo ha un sistema automatico per identificare stelle non gli sembra una stella perché non è troppo ampio la seconda cosa per ragioni di ottica del telescopio ancora la indicazione del telescopio è stata installata a luglio scorso quindi ancora non è ben ben sistemato diciamo la forma invece di essere grossomodo una gaussiana come uno si aspetterebbe cioè avere pur essendo diciamo sfocata ma avere il massimo dell'intensità al centro è una specie di anello con una serie di picchi quindi questi programmi automatici qui sopra mi ci trovano 7-8 stelle identificano i picchi dovuti ad aver azioni ottiche dell'immagine identificano come stelle forse si potrebbe far meglio aggiustando i parametri naturalmente tutti questi algoritmi gli si può dire di cercare su un certo raggio insomma gli si possono dare varie cose ma insomma io non sono riuscito a utilizzarle probabilmente per questo motivo per questo ho dovuto trovarmi il mio algoritmo per centrare per il centraggio delle delle immagini quindi questa è la ragione per scrivere questa funzione centroide o questa funzione che cosa fa questa funzione prende come argomenti l'immagine e la definizione del centro x y cioè posizione x y nel raggio bene quindi per trovare il centroide dell'immagine io uso questa funzione centroid com che opera su io gli devo dare in quale area andarmi a cercare il centroide il centroide viene trovato col metodo dei momenti ovvero sia vengono sommati pixel moltiplicati per il vettore della distanza dal centro e viene trovato come si calcola il baricentro di un di un oggetto bidimensionale va bene qui invece di usare come intensità come usare la massa si usa l'intensità luminosa quindi io qui definisco una sotto una sotto immagine fra x 0 y 1 y 0 y 1 in pixel bene estraggo la sotto immagine calcolo il centroide siccome il centroide è calcolato relativamente alla sotto immagine bene calcolato relativamente alla sotto immagine io ricalcolo nell'immagine originale la posizione del centro sommandoci l'inizio dell'area rettangolare quadrata anzi che ho selezionato quindi ho notare che ecco questa subimage come vedete x 0 y 1 x e y non sono scambiate rispetto alla perché sono scambiate perché l'immagine quella che io chiamo x nei miei grafici che è la cosa a cui faccio sempre riferimento è il secondo asse negli indici dell'immagine e quindi scambio i due indici bene quindi questa funzione effettivamente mi calcola il centroide dell'immagine quindi io ho creato un altro per vedere se la cosa funziona la prima cosa che ho fatto ho rifatto il plot col time lapse cioè ho plottato l'immagine e il centroide così calcolato per vedere se la mia croce mi rimane dove deve rimanere quindi ho riscritto e qui vi faccio vedere soltanto la parte che è modificata bene la parte che è modificata è questa dunque ecco eccola qua per ogni immagine io mi calcolo il centroide a partire a partire dalla posizione del cerchio che gli passo cioè della posizione iniziale dell'immagine zero e poi aggiorno il valore del centroide con il valore precedente va bene in questo modo io dovrei aggiornare la posizione della croce che mi rimanga nel centroide dell'immagine e vediamo questo come funziona anche questo mi pare l'ho fatto da python sì quindi esco da ipython e do il comando che dovrei avere già ecco e lancio questo timelapse 2 eccolo qua e qui vediamo un po' scusate bisogna ecco ci tenga dentro il mouse se non sparisce oh come vedete ora le posizioni si aggiornano è già un primo passo prima rimanevano costanti ora i numeri si aggiornano e con l'andare avanti dell'immagine si dovrebbe vedere che la croce rimane sull'oggetto ormai ve lo faccio andare tutto così così vediamo se e comunque siamo alla 100 già si vede che funziona meglio di quell'altro ora arriviamo intorno a 300 che era dove avevamo avevamo il problema con il precedente algoritmo sbagliato già a questo punto si vede funziona meglio quanto meno vedete si vede che l'immagine si sposta perché quel puntino bianco leggermente ora non so se lo vedete sullo schermo là c'è un puntino bianco in alto leggermente a sinistra che si sta avvicinando perché l'immagine drifta cioè si sposta lentamente rispetto rispetto al ccd ecco qui comincia a funzionare un po' peggio siamo alla 336 e siamo sempre sopra quindi siamo sempre vicini al centro ma l'idea è che si sia un pochino spostata però insomma dovrebbe andare abbastanza bene la croce sostanzialmente rimane sopra l'oggetto sì non benissimo l'idea che si sia un pochino spostata secondo me c'è e comunque adesso verifichiamo con rifacendo rifacendo la fotometria con questo con questo valore siamo alla 400 beh fermiamolo qui io mi sono accorto che non so perché dando un carattere da un errore esce non l'ho programmato io è una una eh cerca di fare un update e dice che è stato che viene distrutto bene quindi abbiamo visto che abbiamo aggiustato l'algoritmo in modo da centrare meglio le zone dove fare la fotometria e quindi ho creato un file che si chiama fotometria 2 e vediamolo un momento allora cosa facciamo io gli passo la posizione del cerchio cioè la posizione del dell'oggetto che sto esaminando e la prima cosa che faccio è rispetto a quella posizione mi calcolo il centroide con la mia nuova funzione e uso quello per impostare l'apertura circolare sulla quale fare fotometria e alla fine aggiorno il valore in modo che al passo successivo io comincio dal punto in cui mi trovo adesso questo dovrebbe essere sufficiente per inseguire dopodiché l'ultima parte cioè il fatto che io riporto indietro il flusso è uguale quindi ho modificato semplicemente questa funzione flux per per calcolare il centroide invece che utilizzare quei valori che poi si sono rivelati non corretti per calcolarmi effettivamente il centroide dell'immagine quindi la facciamo girare e la facciamo girare questa da iphyton perché così abbiamo anche e qui facciamo per cento run fotometri due vedete utilizzo il allora meno di work bene mi fa tutte le lavorazioni su tutte le immagini aspettiamo che abbia finito così ecco abbiamo finito a questo punto io potrei rifare subito un blt punto plot diff flux bene come vedete è un po' meglio di prima sembra più caotica però vediamo che è un po' meglio di prima perché i valori di variazione ma sono ancora troppo grandi sono dell'ordine del 20% quindi ancora c'è qualcosa che non va e ancora molto probabilmente è un problema di decentraggio cioè il mio algoritmo non funziona abbastanza bene allora come ho detto come ho detto all'inizio è un problema di fotometria abbastanza complicato perché dobbiamo stimare variazioni dell'ordine di qualche per cento quindi questo approccio come dire un po' grossolano non è sufficiente bisogna trovare altre migliorare l'algoritmo per riuscire a farlo allora vi anticipo che io non sono arrivato in fondo ma intanto andiamo a vedere come sono i flussi sulle singole sulle singole stelle di nuovo io mi definisco la trasposta per poter fare il plot del flusso sulle singole stelle allora zero come vedete anche qui c'è qualche cosa che non va non due lo stesso diciamo il fenomeno che abbiamo visto prima è diminuito ovvero sia gli effetti del centraggio sono meno rilevanti ma sono ancora sono ancora tali che non mi consentono di fare la misura che io vorrei fare qui è un po' diverso perché io sto usando ho definito i cerchi in maniera diversa e l'ho rifatto interattivamente durante quindi non ho scelto probabilmente le stelle nello stesso ordine cose di questo genere a me si vedono cose un po' diverse ma comunque il risultato è lo stesso ovvero sia io ho dei dati che nella parte finale non sono non sono buoni e non sono buoni chiaramente di nuovo perché il mio algoritmo migliorato per il centraggio non funziona abbastanza bene ok questa è la curva di fotometria che ancora non funziona e chiaramente non abbiamo ancora risolto il problema ok che cosa possiamo fare adesso beh la prima cosa che dobbiamo fare è trovare un algoritmo per identificare gli oggetti sui quali fare fotometria in maniera assai più precisa poi dobbiamo migliorare la fotometria la la funzione di fotometria la perci il fotometri ha anche una serie di argomenti opzionali con i quali io posso specificare quindi una delle prime cose che si possono fare è valutare il background locale e sottrarlo bene usare un metodo adattivo per identificare l'area nella quale calcolare il flusso perché in questo momento io tutte le aperture le ho fatte dello stesso diametro indipendentemente dall'intensità dell'oggetto che sto misurando non è molto corretto meglio sarebbe utilizzare qualche cosa di adattivo che fa sì che si la dimensione si calcola diciamo la dimensione dell'oggetto prima di farci fotometria eliminando per esempio le le code della psf e cose del genere poi si potrebbe aumentare il numero di stelle prese in esame verificare che non ci siano stelle variabili andando a controllare nei cataloghi l'ultima cosa una volta che tutta questa fotometria avesse funzionato e io ottengo una curva di luce buona a quel punto ci posso fare delle elaborazioni che mi occorrono per esempio trovare il tempo di inizio e di fine dell'occultazione in modo da misurare i parametri dell'orbita e da quelli dedurre tutto quello che i nostri colleghi che sanno fare questo mestiere riescono a dedurre relativamente al sistema extrasolare che stiamo esaminando un'altra avvertenza è quella come abbiamo visto studiarsi il package fotutil verificare un'altra cosa che c'è nel package fotutil ci sono due metodi per fare fotometria c'è questo che ho usato io il metodo di apertura cioè io specifico in quale zona voglio andare a fare fotometria c'è un metodo basato sulla PSF che automaticamente fa una stima della PSF quindi da quella identifica l'oggetto sul quale fare fotometria e quindi questo è un sistema nativo l'unico problema è che soffre delle approssimazioni che vi ho detto per prima ovvero sia si basa sulla PSF quindi si aspetta ad avere delle buone PSF ovvero immagini a fuoco senza grosse aberrazioni ottiche e cose di questo genere quindi non ho nemmeno provato ma non sono sicuro che un metodo di fotometria basato sulla PSF funzioni in questo nostro caso ok tanto per continuare vi anticipo che non sono arrivato in fondo a una soluzione del problema ma diciamo ho pensato come un altro modo con cui si potrebbe affrontare allora io praticamente mi sono basato sul fatto che ho dato per scontato che lo spostamento dell'immagine dovuto alle imperfezioni di inseguimento del telescopio sia sostanzialmente lineare ovvero sia data la posizione del centro della prima immagine la posizione del centro dell'ultima immagine lo spostamento ci sia uno spostamento lineare immagine per immagine se uno spostamento lineare fra le due posizioni questo è abbastanza ragionevole se per esempio il il problema è un errore sul motorario se il problema è un piccolo errore sul motorario evidentemente lo spostamento è lineare allora mi sono detto cambiamo approccio prendiamo in modo interattivo il centro il centro della stella nella prima immagine poi prendiamo in modo interattivo il centro della stella nell'ultima immagine e calcoliamo gli spostamenti applicando una diciamo un'interpolazione lineare fra questi due punti e qui ho impostato un po' come si potrebbe fare io riutilizzo il mio object selector questa volta questa volta non come programma ma utilizzo proprio la la classe bene dopodiché mi carico la prima e l'ultima delle due immagini una e l'ultima è la 773 bene dopodiché lancio il mio object selector sulla prima immagine perché è venuto questo non lo va perché c'era già su bene eccolo qua e poi faccio lo start del loop interattivo ecco e qui io ho la mia immagine ora vado a selezionare la stella e qui sarebbe comodo come avevo detto poterlo cancellare perché mi sarebbe piaciuto centrarlo un po' meglio ma potrei provare a dargli un secondo colpo e poi tanto farlo a mano ecco diciamo che sia questo bene termino col tasto destro e a questo punto dentro cell punto circles ho i due punti che ho selezionato prenderei il secondo che mi sembrava un po' meglio centrato d'accordo quindi io mi definisco una variabile cerchio numero zero prendendo quella componente che mi pare migliore uno bene poi rifaccio la stessa cosa sulla seconda immagine che vi ricordo è l'ultima della sequenza bene ma questo fatemelo chiudere che tanto non mi serve questo è quello che voglio qui faccio cell punto start lancio il loop e vado a prendermi la posizione della stella qui mi avrebbe fatto comodo avere avere la possibilità di ingrandirlo interattivamente in modo da vederla meglio insomma quelle cose che avevo detto sarebbe bene averle implementate che io non ho implementato qui direi che adesso va bene esco di nuovo definisco circa 1 come la prima componente dei cilini ho fatto uno solo questa volta quindi ho quindi circa 0 eccolo qua e circa 1 io mi aspetto che le posizioni ai vari step sia un'interpolazione fra questi due punti e quindi mi calcolo i due vettori per fare l'interpolazione o come mai qui non ce l'ho ah perché ce li ho sotto i due vettori eccoli qua utilizzo una funzione di bene ok quindi in questo modo bene io ho per ogni step del della mia elaborazione quindi per ogni file ho una coppia x e y che mi da la posizione stimata del centro della stella quindi avrei voluto rifare la routine di fotometria sostituendo al mio centroide che utilizzava per aggiornare la posizione il la misura del centroide dai dati dai dati dell'immagine utilizzare questa cosa qui io mi sono fermato qui perché non avevo più tempo di andare avanti quindi come dire potrei lasciare come esercizio quello di riscrivere fotometri utilizzando questi due i vettori calcolati in questo modo per fare l'aggiornamento della posizione non sono sicuro che la cosa funzioni magari nei prossimi giorni proverò per mia diciamo così per curiosità vedere se funziona probabilmente diciamo per riuscire a risolvere in maniera in maniera corretta un problema di questo genere bisogna usare dei sistemi più adattivi o come vedete il problema di usare un sistema adattivo è che io non devo immaginare non devo lavorare una sola immagine se avessi una sola immagine sulla quale fare la fotometria più precisa possibile io potrei usare diciamo farlo in maniera manuale in maniera totalmente interattiva e aggiustare i parametri sui ma avendo 773 immagini non posso fare 773 volte a parte il fatto che comunque non riuscirei a mantenere costanti i parametri eccetera ma un problema di questo genere ha una soluzione come soluzione soltanto un programma cioè soltanto con un programma potete riuscire a una procedura dovete farvi una procedura che vi faccia la fotometria in maniera appunto semi-automatica quindi le cose che probabilmente occorrebbe fare è dopo aver trovato un algoritmo di centraggio corretto usare metodi più adattivi per fare la fotometria dei singoli oggetti sono convinto che analizzando meglio il package photo-till è probabile che si trovino degli strumenti per poterlo fare ma quando ho preparato questo esempio poi non ho avuto tempo per andare a controllare meglio dunque se non sbaglio io qui ho il codice del quindi vediamo se possiamo fotometri fotometri tre dovrebbe essere che però non ho finito sono rimasto a mezzo ma per affrontare il problema di calcolarmi l'aggiornamento della posizione ho pensato di creare la classe recenter perché io per poter aggiornare la posizione ho bisogno di mettere da qualche parte i due vettori i due vettori che mi sono calcolato qui questi sx e questi mi servono per calcolare la posizione del centro a ogni passo quindi cosa ho fatto ho definito un oggetto recenter a cui passo i due vettori che semplicemente memorizza da qualche parte i due vettori dopodiché ho definito un metodo center a cui passo il numero vi ricordate che uno degli argomenti con cui io chiamo la funzione nella mia pipeline il secondo argomento è lo step che sto eseguendo quindi mi è passato 0, 1, 2, 3 quindi siccome il valore del recenter dipende dallo step e io quello ce l'ho ho creato questo metodo step che riporta semplicemente indietro i due valori che trovo in shx e in shy in corrispondenza dello step steppesimo d'accordo? quindi questa è la mia funzione di recenter che devo sostituire qua a questa centroida d'accordo? quindi per fare l'operazione avrei dovuto ora qui come ho detto non ho finito quindi qui c'è avrei dovuto leggere i dati dai due file shx e shy che avrei dovuto memorizzare da qualche parte leggere i dati creare l'oggetto recenter e poi utilizzare il metodo center al posto di questa chiamata centroid in modo da avere ogni volta la posizione la posizione in cui effettivamente in cui effettivamente fare l'apertura come ho detto non ho finito questo sono convinto che ancora non sia sufficiente il passo successivo da fare sarebbe una valutazione della dimensione dell'oggetto cioè di quanti pixel occupa l'oggetto per questo c'è la funzione se non ricordo male l'ho trovata sicuramente in un altro package ma c'è anche in fototill quindi prima di fare la misura del flusso sarebbe opportuno una volta trovato determinato il centro dell'apertura determinare anche il raggio dell'apertura sulla quale fare la fotometria per migliorare la precisione diciamo fotometri di un'oggetto arrivare a quel punto sono abbastanza confidente che uno dovrebbe riuscire ad avere dei dati utilizzabili dei dati utilizzabili e comunque un risultato che poi possa essere sul quale si può fare per esempio il fitting per trovare la durata dell'occultazione e quindi poter risalire ai parametri orbitali allora con questo io diciamo terminano le mie slide dunque vedo che uno delle quelli che seguono che seguono via rete propone un altro metodo di usare il programma che calca la differenza tra due immagini per ricamare lo spostamento del campo potrebbe essere un'idea perché non ci avevo pensato e negli esempi di un paio di lezioni fa ho fatto vedere un programma che calcola lo spostamento fra due immagini utilizzando il utilizzando il metodo della cross-correlazione potrebbe chiaramente essere utilizzabile è un'ottima idea non ci avevo pensato vedo un problema nel senso che la cross-correlazione è un'operazione molto pesante quindi il programma ci metterebbe parecchio di più a girare ma non è un grosso problema in fondo le immagini non sono tante e non hanno nemmeno una dimensione intrattabile probabilmente è sicuramente un metro migliore del mio questo ultimo che ho pensato quindi mi congratulo con il nome che vedo è quel pazzo di Pluto ma i nickname che si usano in rete diciamo chiudiamo un occhio sul nome potrebbe essere un'idea sì sono d'accordo anzi la prima cosa che proverò per vedere se funziona è proprio questa vediamo se si riesce a ottenere qualcosa o a questo punto se ci sono domande qui o anche dalla rete c'ho davanti la chat sì no no avevo indovinato che era un nickname ovviamente quindi dicevo se ci avete anche qualche domanda qualche ah un attimo per concludere in maniera un pochino più formale scusate mi stavo dimenticando mi stavo dimenticando usciamo da qui e andiamo a vi faccio vedere le ultime slide che sono due sole ah devo andare al piano di sopra magneto 6 ampersand ecco qua l'ultima conclusione eh questa è importante allora c'è un grosso argomento che non ho trattato e che non tratterò perché non si può fare tutto è Jupiter allora Jupiter è una cosa che nasce dai Python nelle prime versioni di Python misero un un'opzione per aprire una pagina web nella quale lanciare codici python bene diciamo è diventato così di successo che ne hanno fatto un package a parte che hanno chiamato Jupiter quindi che cos'è Jupiter Jupiter è un ambiente software diciamo che integra i Python con codici HTML con il risultato è uno può avere una pagina web nella interattiva nella quale può scrivere testo quindi commenti cose di questo genere scrivere formule matematiche quindi sempre sempre testo ma anche testo abbastanza complesso in modo che uno possa fare inserire pezzi di codice che interagiscono con la pagina web producono grafici quindi uno riesce in questo modo a fare una pagina web dinamica nella quale girano pezzi di codice Python quindi la stessa cosa che io ho fatto vedere con le slide uno potrebbe farla in maniera più dinamica con il sistema Jupyter in cui uno per esempio mostra l'uso di Python per fare fotometria in una pagina interattiva e chi vede la pagina può andare a cambiare codice può farlo girare vedere il risultato quindi è un sistema diciamo per la didattica molto potente in cui uno potrebbe fare un'intera lezione di che so io spettro fotometria preparata in questo modo con un sistema interattivo in cui uno può cambiare il volo e fare cose diverse ogni volta perché la pagina è dinamica quindi consente di modificarsi nel tempo Jupyter come i Python supporta anche altri linguaggi oltre a Python di questo non so niente ho solo letto sul manuale non so non saprei però il sistema è diventato così diciamo generale che le stesse cose si possono fare con Python oppure in altre linguaggi suppongo Java o altre linguaggi di tipo di tipo analog quindi di questo non ho parlato voglio solo fare l'accento perché può essere interessante un po' bene dopodiché c'è un po' di bibliografia commentata poche cose da dire soltanto che i due tutorial della versione 2 e della versione 3 sono buoni punti per cominciare Python perché sono passo passo sono dei tutorial quindi cominciano le cose semplici e fanno un quadro generale ma elementare dell'uso di Python e poi ci sono un po' di libri un pochino più diciamo vicini alle cose di cui abbiamo parlato e sono questo Python for Data Analysis che diciamo copre più o meno gli argomenti di cui abbiamo escluso AstroPy ma gli strumenti di cui abbiamo parlato sono ben descritti e trattati c'è questo Python scripting for Computational Science che è però un po' almeno io sono riuscito a trovare l'ultima versione sono riuscita a trovare è un po' solita quindi diciamo può essere utile ma non copre Python 3 insomma le cose più avanzate c'è una guida non un pai di cui quella la vecchia versione è scaricabile in pdf mentre quella nuova che io sappia è disponibile soltanto se uno se la compra vabbè poi ci sono queste altre cose ha un famoso manuale manuale di di python che copre caratteristiche anche avanzate di python quindi è molto abbastanza approfondito e c'è una versione 3 che è disponibile in online e poi c'è questo libro che vi segnalo perché l'ha scritto un nostro collega di Cagliari è un libro abbastanza ben fatto anche se diciamo è orientato più agli aspetti formali del linguaggio alla definizione formale anche se è una guida completa abbastanza orientata alla parte formale del linguaggio quindi se uno vuole capire qualche cosa di come viene fuori l'architettura del linguaggio quello è un buon aiuto infine un po' di risorse sul web queste dovrei averle fatte come anche cliccabili quindi ecco dovrebbe funzionare questa è la pagina ufficiale di python in cui trovate tutte le informazioni più aggiornate ce n'è una versione italiana eccola qua di solito la versione italiana è un po' indietro rispetto perché è una traduzione è una traduzione quindi tende a essere meno aggiornata della versione originale c'è il repository delle applicazioni python di cui abbiamo già parlato questo qui è la parte in cui si può andare a vedere in rete questo repository è quello automaticamente usato quando si usa il comando pip per installare package python ecco c'è la pagina ufficiale di numerical python dove trovate anche tutta la documentazione e trovate la documentazione ufficiale e anche altri tutorial che coprono tutti gli aspetti l'installazione l'uso il manuale il manuale di riferimento eccetera la stessa cosa per sci-py scientific python e bene anche qui più o meno con la stessa caratteristica e poi c'è la pagina di astro-py astro-py è il sito ufficiale dove c'è il codice il codice di astro-py si può fare il download ci sono tutte le documentazioni discussioni vi spiega che alcuni package per esempio il package photo-tills è abbastanza in fase di sviluppo però si riceve aggiornamenti piuttosto frequenti e non tutte le cose sono sono diciamo stabili abbastanza stabili avete un elenco qui dei package affiliati e qui come vedete ce ne sono un certo numero di questi noi abbiamo visto astro-query abbiamo fatto un esempio usando astro-query e qui abbiamo ah questo abbiamo questo package inga che l'ho in un primo momento ho provato ad usarlo per fare questa cosa di fotometria perché è un package per visualizzazione di immagini fits da file fits però dentro ho anche tutta una serie di tools per fare fotometria trovare oggetti in un'immagine trovare il centroide e cose di questo genere quindi i primi esperimenti li ho fatti con quelli poi diciamo non erano sufficientemente avanzati e è piuttosto io l'ho utilizzato e l'ho visto è piuttosto carino è un un display interattivo in cui si può visualizzare l'immagine prendere sotto insieme facci piccole elaborazioni quindi come tool interattivo per visualizzazione e un po' di manipolazione di immagini è piuttosto comodo e l'altro che abbiamo visto è fotutils eccolo qua fotutils è quello da cui abbiamo abbiamo preso le eh i tools per per fare fotometria che ho provato a utilizzare con non grande successo come avete visto ma non per colpa del peggio fotutils ma perché io non sono abbastanza esperto abbastanza esperto di di fotometria a questo punto davvero se ci sono altre domande fatemi chiudere qua guardo se ecco se anche in rete da chi segue in streaming ci sono domande aspetto qualche minuto e poi se no concludiamo qui questa serie di lezioni oh ah volevo avvertirvi che il ho aggiornato la pagina web ieri sera quindi se queste ultime cose di cui ho parlato le trovate solo nell'ultima versione non le trovate nelle versioni precedenti quindi vedo che anche dalla rete tutto tace va bene allora direi che possiamo possiamo concludere qui vi ringrazio ringrazio chi ci ha seguito chi ci ha seguito in streaming chiudiamo le trasmissioni di dove si chiudono di qua